Tra mantierbossi e aule di tribunale, il calcio siciliano diviso tra le lacrime di gioia o di dolore per i risultati in campo e il fiato sospeso per le decisioni dei giudici attese nelle prossime ore. Il Catania da una parte che oggi ha visto l'amministratore unico Nicolè Mura e l'avvocato Augello di fronte al pubblico ministero regolo e il giudice relatore C. Raulo è il primo atto della procedura prefallimentare stanza depositata dalla procura la quale Siggi dovrà rispondere dimostrando di essere in grado di fronteggiare la mole debitoria del club con forze proprie o tramite l'ingresso di nuovi investitori. La sentenza sarà resa nota nei prossimi giorni. Stesso tribunale causa diversa sul fronte rossanero. L'attesa è tutta per il primo passo della lunga sfida giudiziaria tra il presidente Dario Mirri e l'ex vice Tony Di Piazza. Anche in questo caso è questione di giorni per sapere se il giudice concederà all'imprenditore italo-americano il sequestro conservativo di tutti i crediti, i beni e le partecipazioni di Era Ora La Società che controlla il 99% del Palermo FC. E poi c'è il campo con il rossanero che hanno spiccato il volo dimenticato il gusto amaro della sconfitta e conquistato a pieno titolo il secondo posto con il Bari ad appena quattro lunghezze. Tenere alta l'asticella, quella della concentrazione e delle prestazioni, perché è vero che sabato si torna ancora lo stadio Barbera, ma di fronte ci sarà una Paganese ferita dal K.O. interno contro la Fidelisandria. Sapore della sconfitta che è tornato dopo sette partite ad affliggere gli etnei caduti in zona Cesarini contro il Foggia domenica al Massimino. Gli uomini di Baldini restano aggrappati alla zona play-off e si preparano alla delicata trasferta di Taranto. Va male alla CR Messina che dopo la botta di adrenalina indotta dall'arrivo di Ezio Capuano un mese fa non ha raccolto quanto sperato e proverà già sabato a Latina a riscattarsi dopo il doppio K.O. contro le corazzate Catanzaro ed Avellino.